Buongiorno a tutti, a tutti, a me e a me è sempre finita la fine. Stavanti a tutti, a me è stato arrivato a 4.00 a.m. per fare la carta di spistere tutto il percorso, il calore di aumene e sempre le abbiamo spinto. Vorremmo fare una festa, ci venivamo, perché a un anno dell'autorizzazione fosse una festa che si potesse fare la carta. Grazie, ma a loro prima di tutto, ma vai, tanti podisti, 400 podisti da tutta Italia, i 300 bambini, i 100 camminatori, quindi veramente una bella soddisfazione, ma soprattutto un passaggio ulteriore che si vede a fare un po' l'idea, a fare un po' l'idea, a fare un po' l'idea, che comunque è un grande terzo di mangiamento, e questi ragazzi, che è la verità, anche Torre Maggiù. Ringrazio loro, ringrazio i soci, ringrazio la mia famiglia che mi sopporta, a fare un po' l'idea, un bel lavoro, l'amministrazione comunale, grazie, grazie davvero.